Con il Torino che adesso con Belotti trova la possibilità del contropiede, Baselli in area di rigore, Baselli con il sinistro! Bizzarri sulla conclusione debole, probabilmente anche deviata di Baselli, contrastato proprio al momento del tiro. E manca la grande opportunità per chiudere definitivamente i conti, il Toro, con Baselli.